Qualcuno direbbe, tanto tu o no, che piove. La Digos piomba in comune e sequestra documenti inerenti l'affidamento del cartellone estivo e poi di quello natalizio all'associazione Motumus. In mano agli inquirenti ora ci sarebbero le delibere della Giunta per quell'affidamento, oltre ai documenti delle proroghe dell'incarico di rassegna stampa alla News S.S., l'azienda di cui il sindaco Mimo Consales era proprietario fino alla sua elezione. L'ordine di esecuzione è firmato da IPM Giuseppe De Nozza e Sabrina Toscano. Gli investigatori sono giunti prima a Palazzo Nervegna, sede dell'ufficio del sindaco e del suo capo di gabinetto, poi si sono spostati a Palazzo di Città. Sotto la lente di ingrandimento della magistratura, dunque, sarebbero finite le delibere più contestate dei primi mesi di lavoro dell'Aggiunta Consales. Come si ricorderà, infatti, l'Aggiunta affidò a trattativa privata per un importo pari a circa 200.000 euro all'associazione Motumus il calendario estivo. Su quell'affidamento, senza gara, l'opposizione aveva sin da subito sollevato dubbi. Sulla questione Nuso, dopo un primo affidamento provvisorio scaduto lo scorso 31 dicembre, il sindaco Consales alle polemiche iniziali aveva risposto promettendo che il servizio sarebbe stato affidato alla scadenza con una gara. Ma, in realtà, ciò non è avvenuto. Infatti, l'incarico è stato nuovamente riconfermato all'Anews per altri tre mesi con un impegno di spesa sul bilancio 2013. Ora, tutti i documenti sono in mano agli investigatori, che proveranno a fare chiarezza sulla vicenda. Ed intanto, dal comune di Brindisi, una nota stampa fanno sapere che i funzionari e addetti hanno messo a disposizione l'intero carteggio richiesto dagli agenti della Digos. Trovo giusto che l'autorità giudiziaria, ha affermato il sindaco Consales, effettui tutti gli accertamenti del caso sull'attività svolta dall'amministrazione. Tale attività costituisce una garanzia per i cittadini e anche per noi amministratori.